Un'orica, questo è un bel attacco Lo scatto secco dell'orica Grieci, Albasini forse ancora Attenzione perché parte, no, Edmondson, Alexander Edmondson mi sembra in questo momento scattato A 150 metri, attenzione perché c'è Colbrelli con Viviani, Elia Viviani Grande vittoria di Elia Viviani davanti a Sonic Colbrelli Edmondson aveva provato ad anticipare, grande azione ma Viviani non sbaglia la mossa Grazie